Buonasera, alberese è una spiaggia italiana, alberese è una spiaggia italiana e questa spiaggia che faccio è la mia impressione sull'italiano sunset, un tramonto italiano, su alberese. Però volevo prima ringraziare il maestro Fabio Montomoli e abbracciarlo. Se il maestro può uscire, Fabio, se non ci siamo. La sonata è grande, ma la sonata va molto difficile e Fabio è grande, grazie. 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 Grazie.